Sì, sicuramente l'approccio è stato diverso, forse in settimana abbiamo toccato un po' i tasti giusti, ci sembrava di aver toccato i tasti giusti, abbiamo parlato anche della possibilità di riprendere un gol perché in questo momento non è poi così difficile farcene uno e chiaramente avremmo dovuto avere una reazione diversa, purtroppo ancora non c'è stata e quindi al di là della ricerca della posizione migliore che potremmo ottenere da qui alla fine siamo anche alla ricerca di trovare delle situazioni dove questo gruppo possa risentirsi forte come lo era qualche giornata fa, è un lavoro più psicologico che tecnico, anche se è vero che comunque in questa situazione tecnica stiamo andando un po' alla deriva da un punto di vista difensivo perché se prendi due gol a partita diventa complicato e davanti chiaramente non siamo più brillanti come eravamo un po' di tempo fa, quindi ci sono delle situazioni che vanno di pari passo con la mente ma anche con un discorso tecnico-tattico che chiaramente sta un po' scemando. Io spero che i miei ragazzi non facciano discorsi di obiettivi di Serie A e di Serie B, spero che il fatto che in questo momento abbiamo perso la possibilità di andare a vincere un campionato anche se matematicamente non è perso nulla ma chiaro recuperare i sei punti a Piacenza anche con lo scontro diretto in casa sarebbe un'impresa che in questo momento sarebbe anche stupido pensare di poter fare però allo stesso tempo ci sono altri obiettivi importanti come quello del secondo posto finché ce l'abbiamo tirata a tiro di schioppo, del terzo, del quarto, del quinto quindi vogliamo chiudere bene, qualsiasi posizione possiamo centrare dentro qua è sicuramente da festeggiare ma secondo me la cosa più da festeggiare sarebbe quella di riuscire a reagire a una situazione negativa che farebbe crescere tutti di una spanna.